La dice alla miseria, certe volte faccio certe figuracce, per fortuna che ieri sera un'amica mi ha ricordato, mi ha detto se vieni qui a via Nino Bixio, dice guarda che trovi l'ortiga che è alta anche mezzo metro, io ce lo credo, però mi ha fatto venire in mente il fatto. Assessore al decoro urbano, tanti auguri, buon 2018 e vai, 12 mensili da e tredicesima di stipendiuccio, giombetta, giombetta, fatta in giro per i Ducksurf.